Riunione della Giunta regionale a Torino, coordinata dal Presidente Sergio Chiamparino. È stata un'occasione per esaminare diversi temi. Su proposta dell'Assessore alla Sanità Antonio Saitta, sono stati prorogati fino al 31 maggio 2018 gli incarichi di direzione generale e commissariale delle aziende ospedaliere universitarie Città della Salute e della Scienza di Torino, San Luigi di Orbassano e Maggiore di Novara, dell'Ordine Mauriziano di Torino, del Santa Croce di Cuneo, Sant'Antonio e San Biagi d'Alessandria e delle ASL Torino 3, 4 e 5, Vercelli, Biella, Novara, Verbanno Chiuso-Ossola, Cuneo 1, Asti e Alessandria. Si tratta di una proroga tecnica per uniformare le scadenze di tutti gli attuali incarichi e consentire il completamento del lavoro della Commissione Esaminatrice. Altra proposta arriva da Augusto Ferrari, Assessore regionale alle politiche sociali, per cui sono stati ridefiniti requisiti strutturali, gestionali e organizzativi che devono rispettare i centri di vacanza per i minori, cioè i presidi che forniscono un servizio residenziale o semiresidenziale temporaneo, pedagogico o ricreativo a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, in estate e nei periodi di sospensione dell'attività scolastica. Tra le novità, l'inserimento tra le strutture idonee anche delle tipologie recettive e extraalberghiere. Inoltre, con l'approvazione su proposta dell'Assessore all'Ambiente Alberto Valmaggia del documento preliminare del rapporto ambientale preliminare, è iniziata la revisione del Piano di tutela delle acque, lo strumento programmatico finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità e alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo piemontese. I principali punti della revisione 2018 sono la depurazione delle acque a tutela dell'uso idropotabile, la riqualificazione degli ambienti fluviali, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, l'adeguato recupero dei costi ambientali, l'evoluzione delle attività di monitoraggio. Disposta infine, su iniziativa dell'Assessore al lavoro Gianna Pentenero, un'integrazione di 500 mila euro alla dotazione iniziale di 5 milioni della sezione del programma operativo del Fondo Sociale Europeo dedicata all'apprendistato di alta formazione e ricerca, in modo da dare continuità ai percorsi formativi per gli anni 2019 e 2020 di chi si sta affacciando al mondo del lavoro.